Una marcia per la pace, per la convivenza umana contro tutti i razzismi, a seguito di violenze che ci sono state contro i nostri fratelli e le sorelle immigrati, vogliamo reagire a un clima che poi è in questi piccoli paesi ma è in tutta l'Italia, di attacco agli immigrati, dall'insulto alla violenza alle cose più tragiche. Noi ci vogliamo difendere dal razzismo perché fa male a tutti. Ma quello che è successo e quello che è succedendo è creata una paura tra i fratelli immigrati che tutti quanti vogliono vivere bene, vogliono vivere in pace. Quindi con questa paura, per vincere questa paura e per dare un messaggio di convivenza pacifica e tutti i fratelli ha scelto dare un messaggio per la pace e per la convivenza pacifica. Basta, basta, basta! Panismo! Umanità! Questo genere di violenze non è che sono avvenute solo nelle ultime settimane. Sono mesi e anni. Solo che nelle ultime settimane la notizia che ha cambiato il quadro è che gli immigrati hanno reagito in modo pacifico, unitario e combattivo perché sono mesi che avvengono queste cose e chi dovrebbe vigilare non lo fa. La popolazione di Grumonevano, come di Casandrino, Sant'Antimo e dappertutto è fatta di bravissime persone ma c'è una minoranza o di sbandati o di criminali, di gente squallida e vigliacca che attacca gli immigrati. Quindi vogliamo unire i buoni e isolare i cattivi. Libertà! Pace! Pace! Possiamo essere uniti nella vita di tutti i giorni e questo può fare la differenza, questo fa la differenza. Grazie a tutti! Grazie! Grazie.